Gravi criticità per il fiume Vomano, che rischia di esondare per i canali ostruiti a causa dell'incuria. A denunciare la situazione al limite, con tanto di documentazione fotografica tramite droni, è l'associazione Pro Vomano, presieduta da Mario Cordone, che nel controllo fatto a luglio ha riscontrato come la vegetazione spontanea non solo abbia ostruito diversi canali adibiti a sbocchi di sicurezza, ma ha anche intasato le arcate dei ponti lungo la statale 16. Il fiume Vomano è da anni che sta in uno stato di abbandono, all'interno del letto c'è una specie di isola dove sono stati fatti alcuni lavori e hanno ammucchiato dei sassi, delle cose, dove è nata della vegetazione e questa vegetazione, ovviamente, se dovesse alzarsi il letto del fiume, spinge tutti questi cespugli, questi rami, li spinge verso le arcate del fiume, che ovviamente farebbe alzare il letto e quindi una potenziale esondazione del fiume. Oltretutto, ad aggravare questa situazione, c'è pure il fatto che l'argine fatta dalle ferrovie negli anni 20 è stata tagliata in diverse parti e quindi se ci dovesse essere questa esondazione l'acqua si riverserebbe verso Scerne. Unitamente al canale numero 3, che è il canale principale di Bonifica, se ci dovesse essere una pioggia persistente, praticamente l'acqua del canale, unitamente all'acqua del fiume, si riversa verso Scerne. Quindi andrebbero fatti dei lavori comuni, dovrebbe provvedere per l'argine a rimetterlo a posto, nel senso che adesso ci passa una strada, però se questa strada si crea un dosso e quindi si riforma l'argine e quindi l'acqua verrebbe protetta. Poi c'è anche la provincia che dovrebbe intervenire e la regione per fare, che oltretutto è stato fatto anche uno stanziamento di alcuni milioni di euro per rimetterlo a posto. I due ponti hanno ciascuno 19 arcate, di queste 19 arcate oggi solo 3-4 sono a disposizione del fiume, le resta sono abbandonate e intassate. Quindi o erano stupidi quelli che hanno fatto i ponti, o sono degli incompetenti o ancora peggio quelli che ci sono adesso.